Il direttore generale Di Paolo risponde all'interrogazione sul Limo del consigliere Privitera. Il consigliere Privitera con la sua interrogazione ha sollevato un tema che è all'attenzione del Consiglio Comunale oramai da moltissimi anni. Perché non sono state fatte le nuove tariffe d'estimo? Per una ragione molto semplicissima, molto semplice, il decreto ministeriale che doveva dare le direttive sulla rideterminazione delle tariffe d'estimo a seguito del DPR 138 non è stato mai pubblicato e quindi nessun Comune d'Italia ha potuto rideterminare le tariffe d'estimo. Questo ha impedito di dare attuazione a questa riforma che è rimasta a metà strada. Perché con le microzone sono stati indicati i valori di mercato degli immobili nel caso di Frascati nelle sei microzone. Frascati è stata divisa in sei microzone e quindi per ogni microzona l'agenzia del territorio ha indicato dei valori minimi e massimi degli immobili. Però da questi valori, attraverso appunto gli estimi, bisognava poi produrre le nuove rendite catastali degli immobili che sono quelle che vengono utilizzate. La problematica che lei invece segnalava di qualche mese fa, di cui il Consiglio Comunale aveva discusso, era relativa, partendo sempre dal problema fiscale, delle equazioni che si determinano nel territorio comunale, era relativa al tentativo che è in corso, perché è stata poi mandata una specifica richiesta all'agenzia del territorio, a firma del sindaco, per la realizzazione di una seconda zona censuaria. Attualmente Frascati è un'unica zona censuale e quindi vengono trattati tutti allo stesso modo, sia nel centro che nella periferia, con delle... ...i bagni e cella dove ricadono le varianti speciali di un minor pregio, sulla quale applicare dei valori catastali di tipo diverso. Questa richiesta è, diciamo, l'attenzione dell'agenzia del territorio, bisogna proseguire a un confronto perché possa essere, come dire, adeguatamente istruita e portata avanti. Grazie, direttore Di Paolo.